Tornando alla Spagna ti faccio comunque un'osservazione che mi è sfuggita l'anno scorso, purtroppo, e se l'avessi capita avrei potuto speculare al ribasso sulla Spagna. Sono stato a Madrid l'anno scorso per fare una conferenza a Reina Sofia e ho visto nel centro di Madrid migliaia di esercizi di compro oro, no? Che stanno aprendo anche qui, tra l'altro, adesso. E mi ha stupito, ma dico, boh, si vede che da queste parti userà così. E invece l'interpretazione che oggi i finanzieri spagnoli fanno è che c'è stato un incremento enorme dell'apertura di esercizi di compro oro perché la gente ha necessità di vendere i cosiddetti beni di famiglia per poter vivere, per poter mangiare sostanzialmente. Cioè quello che una volta era il banco dei pegni? No, no, sono veri e propri esercizietti in cui un imprenditore compra oro e lo intermedia. Ma già qui a Torino ne vediamo almeno 20, 25. Poi qualcuno dice che dietro c'è anche... E certo, infatti c'è una proposta legislativa che prevederebbe ovviamente un controllo molto specifico perché è chiaro che il riciclaggio è subito lì dietro. Però quando in Spagna, nel centro di Madrid, tu vedi in una via commerciale 50 compro oro di fila, se non sei stupido come sono stato io, avrei dovuto immaginare che effettivamente c'era una crisi latente che stava effettivamente... E quindi in questo caso, se tu l'avessi capito... Era una cartina di torno al sole. Mi vendevo, all'ho scoperto, i bonus spagnoli che avevano uno spread di 0,70... Pensavo che avessi venduto l'oro di famiglia. No, eravamo a spread 0,70, adesso siamo a 400. Tu immaginati c'è da guadagnare su un trentennale 30-40%. Questo è quello che fanno gli speculatori. Senti, sai che il speculatore ha un termine... ha un qualcosa di negativo. In realtà non lo è. Non lo è, non lo è perché quando io sono sul mercato ho la necessità di difendermi, no? In un senso o nell'altro, quindi non posso semplicemente investire con un solo orientamento, cioè compro per sperare che il mercato salga, perché il mercato può scendere. Quindi se io, ed è attività di rischio certa, totale, quella del mercato dei capitali, non ho la possibilità di difendermi al ribasso, è chiaro che è un discorso spurio. Se poi questi strumenti finanziari, che erano strumenti di copertura, sono stati però cartolarizzati e istituzionalizzati come strumenti di mero scopo, allora a questo punto diventa un qualche cosa che snatura la realtà. Non è più uno strumento fin a se stesso, ma è un strumento che serve per fare altro. Mi piace Paolo perché con te si vengono domande a raffica, così di curiosità, quasi da settimana economica e nemica.